Ciao ragazze e ragazze, Wakenna Staking nel mio canale Eccoci quando noti con un nuovissimo video Siamo arrivati al ventesimo episodio del nostro Let's Play Swatch Dogs 2 Non manca molto alla conclusione Qui siamo al centro urbano, lì c'è una moto, la vedo Andiamo ad attivare la nuova missione Apriamo il DeadSec, l'applicazione Allora, c'è sempre quella principale, non so... Ok, dobbiamo terminare questa Potere pecoroni, incontriamo Josh vicino a Fort Front Sono 2200 metri, quindi al solito se non succede niente Taglio e ci rivedremo alla fine Posteggiamo qui, sperando che non ce la rubino Iniziamo la missione Ma che fai? Ma hai bussato nel bagno? Nel bagno mobile? Oddio Cosa ci sta facendo lì? È che l'abbiamo beccato e me ne stava facendo la cacca, no? Perciò sei tipo scioccato Come si succede tutte? Tutti i segi elettorali? Li bombardiamo, no? Sganciamo la mob, la fob Quello che volete voi Distruggi le macchine per la votazione, ok Ma dove cazzo? Cosa dovrei fare adesso io? Io sono in un luogo sperduto Vabbè, non c'è qua ci sono le macchine Ora qua io dov'è che devo andare? Devo girare? No Perché me lo indica qua dentro Come si entra qui dentro Oh, qui possiamo salire Figo Saliamo, saliamo, saliamo Oh, siamo arrivati in cima Allora, questi qua io li devo distra... Oh, c'è la chiave, fantastico Facciamo così, distruggiamolo col cellulare E sacchete Perché me lo indica la stessa altezza ma se in realtà è sotto? Che fa il gioco? Mi trolli? Ora possiamo scendere Io adesso Non so precisamente dove... Qua ci sono I fasci di luce Non posso... I laser Non posso andare Di entrate è proprio niente No, allora devo scendere Entrarvo all'interno Sono troppi Sono troppi Ragazzi, se gli mando i sigari Li proviamo? Ah, sì, dai Io gli mando i sigari Guardate come si stanno mobilizzando tutti Guardate Guardate, oh Non riesco ad ammazzarli Mi fanno schifo Cioè, mi consumo mezzo potnet È per ammazzarmi uno 45 anni Guardate Esplosa la macchina Non è morto È reale? Cioè, i sigari più inutili del mondo Terza ondata Questa è basta E dopo di che mi avvio io Io non ti prendo qui Come hai vestito? Sembra che sto andando in palestra Oh, l'unico modo che va per avanzare Fagli cadere le granate E farli esplodere Oh, saliamo di qua Oh, qua giù c'è la prima Bene Cioè, io lo sto ammazzando così Oh, finalmente E ora l'abbiamo fatta Guarda, suo figlio di puttana E ti ammazziamo di brutto Oh, stanno salendo Tutti da qui stanno salendo Non ti preoccupare Adesso ti ammazzo tutti A uno, a uno Guarda che ti ammazzo Uh, che è The shot to bitch Che c'è questa musica Molto country Sotto Ah, ma qua sono dove ero prima Lol Fuori Fuori Oh, ragazzi Sono riuscito ad ammazzare tutti così Sì, neanche per culandomi dall'altra parte Sono venuto a pregarmi Sono scarsi Come scapi Ragazzi, siccome c'è fucile da cecchino Io direi che possiamo Snapperarli tutti Col cecchino Quindi questo qua Lo voglio prendere in testa Coglione, avvicinami Sono morto What? Tre colpi per morire Muori col corpo a corpo Ragazzi C'è Guardate Le cose strane di sto gioco Con colpo a corpo Ammazzo tutti Indistintamente con un colpo Muori Sì, devo scappare Devo farmela così Ragazzi fa schifo con il cecchino Così devo ammazzarli Immontaggi loro Scendi Cosa se lo distraiamo Poi lo ammazziamo Zacchene Questo approccio Troppo diretto però Non è bello Perché adesso Sarò esposto Il brutto posto Dove metterli Qui dietro Ah no, ok Ci posso attraversare Bene Che poi c'è anche Questa qua Per la scossa Quindi potrei anche Farli prendere Un'esplosione Potrei far capitare Questa Perché Adesso io farò Gli farò cadere la granata E me ne devo scappare Per favore, per favore, per favore Ok, se ne è andato Guarda se bastava un po' più di accortezza Per avanzare Guarda Lui adesso dall'altra parte Non sarebbe male Tutti li sto ammazzando Guardate E ultimo Uh, si era anche girato Affanculo schifoso Non è rimasto più nessuno Ah, c'era ancora questa Perfetto Una l'abbiamo distrutta Le altre tre sono sopra Vabbè, per altre tre Il passaggio è uguale Quindi ci rivedremo Alla fine E qua bisogna andare dall'altra parte Però va bene il cazzo Tanto Non è mai scattato No, ma che Ma se non c'è nessuno Mi rendete conto che ci vogliono sette Otto Colpi di cecchino Oh, qua c'è direttamente la grada Per esplodere Perfetto Oddio Ci mancava poco Che morissi pure io Datemi un'uscita esterna In cui scappare Prima l'avevo vista io Infatti era qua Oh, qua c'abbiamo la moto E via Scappiamo Missione completata Anzi, è capitolo completato 43 minuti Oddio, oddio Là c'è la polizia che sta arrivando Oh, cazzo Vediamo che mi becchino Scappiamo per di qua L'unvite Praticamente Vi truffa E quindi sono arrivato io E ho distrutto tutte le macchiette Così non si vota Perché tanto si vota Non si vota È la stessa cosa, no? Guardate, ho fatto ricorso Per le leggi truss A meno di illegali Uh, guardate L'abbiamo colto in flagrante Un virus per stregge elettorali Eccolo Ecco il motivo Missione completata Ok Questa credo che l'abbiamo finita Allora Aspetto un'ora in chiamata In casa Attivo io Bella Los Angeles Di sera Non mi dice niente Ah, Marco Sono tutti in un iniziale Oddio La sicurezza Sono tutti in un'ora in chiamata Ricercati What? L'operazione principale Colpo grosso In contra del secco Alla perché spazio Ok ragazzi Quanto è? 1700 metri Al solito Se non succede Oddio Che cosa è successo? Ragazzi Vedete Distraendomi a parlare Ho combinato Il macello Dicevo Che se non succede niente Ci rimetteremo al posto Ok Siamo arrivati Ok I nostri followers Secondo me abbiamo Milioni Tipo Non disponibili Dovendo telefonare Sì ok Devo aspettare Che finisca la telefonata Abbiamo fatto capire La blu Ma è il sito Che rubare i dati E si ritorce con tutti loro Esattamente Anche perché poi Li grabbiamo noi Ok Iniziamo la missione Questa è la missione finale Ok Ehm Vabbè dai Se dobbiamo fare la secondaria Poi la facciamo dopo Tanto penso che si possa fare dopo Quindi Al trovo a San Francisco Devo eliminare Lui si è ubriacato Perché non ci è mai riuscito Ecco Adesso è passato Dalle risate isteriche Alla disparazione più totale Alla frustrazione Non posso neanche schippare Ah no Già è finito Vediamo dove sono stato Immortalato Fammi un po' vedere Ah È data base dell'FBI Monitorata Che scuritura Facciamo magari Ci faranno il complotto Mi verranno a prendere Proprio lì Alla che spazio Sì è un po' come la realtà No Certi che sono buoni Li fanno passare come cattivi I cattivi Li fanno passare come buono Quegli occhi che guardano la ragazza Cosa guardate Sporcaccioni Costruisce il graffito Della Bloom Con il bel ditone Medio Devo maneggiare lei Fichissimo Oddio È anche l'appartamento Dell'assistente di Fusan Giustamente ci stava Che prendesse a me Un altro personaggio Secondario Insomma Sono tutti i miei Staggi Ma posso saltare da qua? No ok C'è questo ponticello Scherzavo Saliamo È agilissima È ancora più agilissima Di Marcus Ok Uh il campo di energia Attenzione Questo mi piace Questo Ok Sbloccato Questo è sbloccato Ok Ma in questo momento Non ci serve perché Ancora Come riavvio? No È questo qua che devo farlo In un certo limite Dai Su Io li odio questi qui C'è questo qui O tu lo conosci bene Alias Lo rifai tipo 20 volte Oppure Fallirai la prima volta Anche se In questo momento Non mi sembra difficile Perché sono riuscito A farlo in maniera Piuttosto rapida Ecco scherzavo No ok No ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Amica sbrigati Ammazza Dusan Sarà un sistema Di sicurezza Molto lungo Ma non mi sembra Difficile da penetrare Mi sa che le treati Da Sono un po' Un po' Vasulle Scusatemi Ho già sbloccato tutto Ah ok Devo semplicemente Prendere Che imbecille Che sono Alchieriamo qui Il sistemino Col Non so C'è meno doveva ammazzarlo Se non lo ammazzi Non sei inutile Qui ci sono tradimenti Conto tradimenti In questo gioco Cioè Oh Lui è rimasto È finita la telefonata Lui è ancora rimasto così Ah doveva chiarare Vabbè va Ok Oh mi comando È ancora più lenta Così è troppo veloce Se non è come me lo passo Il tempo Chiaramente sarcasmo Ah ma leggiamo Tutte e quattro il personaggio Ho capito Abbe la porta Qua ci sono molti nemici Ci mandiamo il sigaro Oppure Cos'è questo Oddio Ma che è Il laggio buffi Oddio Il laggio buffi sarebbe il laggio granate Guardate ragazzi Dove mi hanno preso addirittura Dove sono venuti a prendermi Guardate Devo girarli Oh qua non posso neanche salire Perché c'è troppa pendenza Ma invece si posso salire Ragazzi io li sto girando Fammi salire Oddio ragazzi Guardate che li ho fregati Oh questa volta Mi è andata anche meglio Sono anche in fuga Quindi se riesci a mettermi In un posto ben coperto Potrei scaricarmi i dati Senza farmi vedere Con il culo Mi stanno cercando Per favore sbrigati Oddio Mandiamogli in buona banda Così Intistraiamo Stiamo sotto Devo durare Devo durare Adesso mettiamoci qui in qua Li sto girando Praticamente Zombie di Call of Duty style Vabbè Ok allora sono distratti Con grazie mille Banda Oddio Obiettivo completato Bene Spacca I serve di backup Come? Oh ok Inserisco la carica Bene addirittura C'è anche il filmato Quindi Forse questo incubo è finita No Sono lì Apriamo Sì l'ho trovato Di sempre Adesso che devo fare Devo colpirli così? Sì Ho due Tre Quattro Qua dove siamo Voi dovete Fare? Facciamo la cosa Ti ammazzo Prima che Avverta le guardie Ogni piano ragazzi E' buono Basta Che sia Proficuo E soprattutto Meno rischioso Possibile Solo che mi serve La chiave Che c'era la chiave Ah quello stronti C'era la chiave Oh Io l'ho già presa Quello è lontano Quindi va bene Scialla Lo archeriamo Anzi lo manomettiamo E siccome dall'altra parte Oddio 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 Non li ha chiamati vero? Non li ha chiamati Non ho fatto la minchiata io ragazzi Scusate Ragazzi ora voi mi chiederete Perché le ammazzo tutti? Perché se poi voi dovete scappare Almeno in questo modo Voi non avete nessuno Tra i piedi Poi dopo Sarà un po' più problematico Se ci saranno guardie Ecco La mia è un'azione preventiva Ok 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 Anche tu Ciao coglione Ma non mettiamo anche Le altre comunicazioni Oh oddio C'era questo qua Dove è spuntato raga? Stai dicendo che c'è Anche questo qui da sbloccare? E cosa mi sblocca? La strada per andare giù? Ah eccola qua Sì non l'avevo vista Sì allora sì Mi sbloccava la strada Prendiamo l'ascensore Scendiamo Ah che è il computer protetto Tramite air gap No ragazzi Mi sa che questa missione È un po' lunga No ragazzi Allora facciamo così Ci rivediamo In questo punto Esatto Perché Perché se no Mi porterebbe via Altra mezz'ora È troppo tempo Troppo Due ore di registrazione Onestamente Non le voglio fare Un'ora e mezza Va bene così Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi Bella